Chi siamo? Are the future! Chi siamo? Are the future! Chi siamo? Chi siamo? Giustizia e climatica! Chi siamo? Giustizia e climatica! Quando la vogliamo? Ora! Quando la vogliamo? Ora! Quando? Ora! Perché non lo avete ancora capito? Vogliamo perenta di un pulito! Perché non lo avete ancora capito? vogliamo un pianeta più pulito, basta la promesse, basta il filamento e vogliamo dire insieme in quanto a lei, questo corcheo non è una passeggiata, la nostra voce deve essere ascoltata.